un'altra città il reso altro il reso della barbara parla della margaretà un reso di francese e magari verso l'anima e vi fanno spiegare anche quando i suoi Nia parla avremmo non si parla avremmo, e le chiamano che nacchino. Cosa risposta? Cosa risposta? Cosa risposta? Non si è successo? Noi non si è successo. Non si è successo? Non ci si è successo? Non si è successo? Non si è successo? Non si è successo? ma io mi ne è un bravo e di mine venir miniatà 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 e si adamm, di e be la fo e be mina. E ma me di e be tar e ma ma coppa, a ne mia a mina bof e ma mini uoga e be yeshua e be na. E deba abon gaiar nan nini e cari uenia nabraham, a ne yesh anga sopane, un gè buona braam e be mini bo, un gè mi boona braam e me mina bo. V. Entra che mia ammina gianne mi rifiniamo e moro moccopo i ammina e bebbela mo' cuoca e bensamo. Ed è che adram, mia è in giro boh. Ed è che adram, mia è in giro boh. Ed è che adram, mia è in giro boh. Ed è che adram, mia è in giro boh. A un'altra parte, il rio di un pò che dirà il suo lavoro. La mia vita è la mia vita, 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 la mia vita è la mia vita. e nzi togo mban a bebeleke, a mone bebele a sebeke, e yon a kov minne a a kov e jam de yebin, a mone a nene ne lefe si e minne. V ma a karne, ma kov bebele, mina a bounu ma, zaye ebe mina a wale masem. V ma a karne, ma kov bebele, a mou zaye mina a bounu ma. E nye ne mouren zam, a wak bi fi an zam, zam te de mina a wak a yado, a mou ne, minise ban zam. A nebe te wo soube yebo kou diobanga yana nene. Nde biya a zo bebele ne, ono man samaritano, yefe ne, ono be an sisi. E dhe ye suan ga yara nene, me e bebele mbi an sisi. Fave ne, ma se me taro gom, v minne a minne a lir mousan. V ma ma a jang e gom a dam, e nye a jang dwan, a ti go femi sa. Ma a jang e nye a babara ya babara nene, nge mo ra a jari bi fi an zam, a yaw hu, dende. E dhe, v te wo soube yebo kou diobanga a jang e nene, a gora di dbistu biya a yam nene, obberim dhe a nsi sim. A braam ya bo kurmojo ba hu, e dhe go gha jone, nge mo ra ba ali bi fi a diyan, a yek ya ga hu, dende. E dhe, yon mo ra a mout, a dang a karibé a braam, e nye a ou. Bo kurmojo ba ba ou goufe. Bo bo wwa mene nse. E dhe, yon mo ra a jang e nene, nge mo ra ma mene dgouma, e dgouma da mene nsi sim. Kara, e nye a nye a yam mo ra dgouma, e nye, min a jone, a nye jame uwe. Mi a amina a yam nye, vwa mma a yam nye. E dhe, yon mo ra nye, ma a yam nye, ma a yam nye, nye a nye min a. Dhe, yon mo ra nye, ma a yam nye, ma ba ali fi fi a diyan. Dhe, yuk na, dhac nye, vivwa. Dhe, yon mo ra, cause a chanா so. Dhe, yam nye ligwa, cause a chanaha so. E dhago si iti, putin melwa mene. Dhe, yus w a nye a chan. Dhe, yon mo ra nye, ne, yon mo ra nye, iki or ma yam nye. Dhe, yon mo ra nye a bra ham. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info